Leone d'oro alla carriera, Miriam Mazza, prima farmacista a ricevere il premio. Federpharma Matera, nuovo consiglio direttivo. Unione Cattolica Farmacisti Italiani, Giuseppe Fazzini, nuovo presidente. Buongiorno e bentrovati su una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Miriam Mazza è la prima farmacista a ricevere il premio Leone d'oro alla carriera nell'ambito del Gran Premio Internazionale di Venezia. Mazza, specializzata in scienze e tecnologie cosmetiche e fondatrice del progetto, ricomincio da me un'associazione no profit che ha come mission l'affermazione del concetto di bellezza come bene comune. Dedico questo premio a tutte le persone che ho accudito e incontrato, perché senza di loro il mio impegno e lavoro sarebbero stati vani, dichiara la premiata. Nel corso della seduta del 23 giugno scorso sono state rinnovate le cariche del consiglio direttivo di Federpharma Matera. Il consiglio resterà in carica per il triennio 2023-2025. Antonio Guerricchio è stato eletto presidente, Leonardo Mastrorocco è stato eletto vicepresidente con delega alle farmacie rurali, Clelia Potenza è il nuovo segretario e Giuseppe Di Marzio, il tesoriere. L'Unione Cattolica Farmacisti Italiani ha un nuovo presidente eletto a fine maggio. Si tratta di Giuseppe Fattori che prende il posto di Pietro Uroda, venuto a mancare nell'ottobre scorso. Dopo la presidenza del dottor Uroda, uomo di grandissima fede e di umiltà e bontà infinite, mi sono trovato a prendere questo incarico, ha raccontato Fattori a filo diretto. Non volevo che naufragasse in tutto questo frassuono la presenza dei farmacisti cattolici, ha sottolineato il neopresidente, evidenziando l'impegno dell'Unione in molti ambiti del volontariato, dall'appoggio alla Caritas al sostegno ai malati sui treni diretti all'URD. Insieme a Fattori, nel Consiglio di Presidenza per il Trenno 2023-26, Giorgio Falcon e Fausto Roncaglia sono stati eletti vicepresidenti, Francesco Scarpino è stato eletto tesoriere e Carmen Mosca, segretario. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per domani con una nuova edizione del telegiornale. Giorgio Falcon e Fausto Roncaglia sono stati elettronati del farmaciano.